Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignol. Partiamo dalla A1 in direzione Roma dove troviamo traffico rallentato tra il BV A1 variante e Badia. Sempre in viaggio verso Roma, traffico rallentato per un trasporto eccezionale scortato tra Val d'Arno e Arezzo. In A12 possibili code alla barriera di Rosignano in direzione sud. Sul raccordo siena a Firenze possibili disagi per una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni per lavori tra Tavarnelle e San Donato. Infipilì prudenza per la presenza di personale in carreggiata senza conseguenza la circolazione tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. A Firenze chiusura del ponte alla Carraia con blocco della circolazione, deviazioni segnalate in loco. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!